Questa è una riflessione serale. Sto studiando una cosa meravigliosa che è praticamente il principio della civiltà, quindi questi famosi sumeri e babilonesi di cui tutti parlano. Cosa facevano questi in Egitto e in Mesopotamia che nascono già tra il 4000 avanti Cristo questa gente che poi diventeranno i faraoni, fichissimo. E cosa viene fuori? Viene fuori che questi popoli sempre intorno alla stessa cosa erano. Cioè avere il potere, diventare più ricchi, unificare il proprio territorio ed espanderlo fino a tutti. E c'è sempre un po' questa idea di unità, no? Di ritornare a sto cazzo di unione di tutto il popolo sotto un unico potere. Vedi l'Egitto, no? Sempre sta cosa. Alto e basso Egitto che stia sì, poi i persi che fanno tutto questo impero enorme, no? Arriviamo al potere del mondo. Sempre stati così, raga. Cioè non siamo mica tanto originali noi, nel 2021, quello che siamo uguale, identico. Siamo sempre la Bibbia. Cioè pensiamo un attimo alla Bibbia, quanto ci basiamo anche la nostra vita in Italia con il Papa, tutto sulla Bibbia. hanno trovato la storia di Gilgamesh. Voi sapete che Gilgamesh? Gilgamesh era un tipo, questa storia, in queste tavolette con i formi che hanno trovato, lì di un po' più su a nord della Mesopotamia, questa specie di biblioteca dove c'erano tutte queste tavolette con i formi, perché nelle biblioteche non c'erano mica i libri, c'erano le tavolette, no? Con queste scritture. Beh, vabbè. Con tutta sta storia di Storè, che inizialmente era un umano che pensava solo a scopare, a mangiare, a farsi fare i massaggi, cioè uguale come noi alla fine, eh? Cioè sarà stato anche ormai cinquemila anni fa e mezzo, però uguali, dritti. Scopare, mangiare, stare bene, fare i soldi dei poteri. Siamo cambiati poco, eh, se non che adesso abbiamo il telefono e possiamo mettere i video su YouTube. No. Vabbè, insomma, questo tipo. Fa un viaggio perché vuole trovare la vita eterna. L'immortalità. Ora, in questo viaggio lui parte in tutto questo monte, passa nelle prove, tatatatatata, e arriva, a un certo punto, in un posto dove c'è la barca, ormai, di un vecchio saggio con sua moglie che sono sopravvissuti al diluvio universale e lì ci sono quasi parola per parola i versi della Bibbia di quando parlano del diluvio universale e Noè e anche di quando lasciano la colomba è tutto uguale detto ma ci sono tantissimi punti che io adesso non so citare però incredibile e poi ovviamente sta cosa ha avuto un sacco di incidenze anche tipo nella letteratura di Omero anche su cui si è basata tutta la nostra letteratura poi greca e quindi il nostro pensiero occidentale raga noi veniamo da Babilonia no vabbè sì da Babilonia dalla Mesopotamia dall'Egitto da là che cazzo che è c'è tutto là raga è tutto là è già stato tutto scritto c'è alla fine c'è un sostrato comune a tutti questi popoli dove c'erano gli ebrei insieme a Stalto i semiti Bordello ma uguali dritti come siamo adesso potere sesso soldi religione arte s'han cambiati poco eh abbiamo scoperto la matematica ma perché gli egizi no miglia lì hanno trovato anche tavolette con il teorema di Pitagora ben prima che Pitagora lo inventasse avevano già sviluppato un sistema di astrologia amiche hanno costruito delle piramidi no vabbè qualcosa avranno saputo mi mummificavano sapevo un sacco di cose di come c'è ciccia raga ma è che erano proprio scemi questi qua eh cioè non è che adesso noi siamo proprio molto più intelligenti di loro cioè alla fine siamo uguali solo che loro tutto sommato erano ancora lì non avevano ancora le tecnologie per distruggere il pianeta noi adesso siamo 8 miliardi 7 miliardi e mezzo non lo so abbiamo tutto il paniere stiamo facendo merda sarà anche venuto il momento di sviluppare altre cose al di fuori di sesso e soldi cibo potere e basta no sì beh su una cosa effettivamente c'è la differenza c'è differenza che noi siamo incredibilmente sovradimensionati e ci crediamo così potenti da avere la verità in mano da avere il destino la vita la morte in mano e di poter fare del mondo quel cazzo che ci pare mentre ancora almeno gli antichi credevano in qualcosa che dava un limite e che manteneva un certo tipo di equilibrio tutto sommato credere negli dei gli dava un senso del limite del valore del perché adesso noi l'abbiamo perso completo completo questa megalomania dell'essere umano ci ha portato a perdere di vista che cos'è la vita che cosa la morte soprattutto in un contesto che il nostro pianeta ma oh se ne pagheranno le conseguenze e ci saranno a vivere comunque basta questa meditazione finale quindi sì magari ci possiamo come umani spostare da questo asse che ha creato vabbè alla fine civiltà di 5 mila anni uno sputto nella storia della terra guarda cosa abbiamo creato ciao ragazzi con me non duriamo tanto vedremo ciao buonanotte un bacio